i film si trasformano in realtà lo vuoi certo non è entrato nella parte non è entrato nella parte ma intanto andiamo a presentare gli altri personaggi fabio da dove arrivi a concesio a presa sono da presa qui bisogna sintonizzare il gruppo perché chi sei stasera e che ne so io a piano un vampiro militare ok un fritto misto un fritto misto allora riformuliamo la domanda è buona è buona allora ascolta riformuliamo la domanda lo vuoi un palloncino incredibile e poi andrei porta in alto la mano che qui c'è il nostro capitano come ti chiami andrei dove non lo so perché tu hai detto andrei dove è venuto qualche olandese volante vero infatti lo vedo tra le nuvole questo ragazzo attenzione qua alzati 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 abbassati 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 alzati 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 abbassati abbassati come ti chiami giulia chi sei stasera con queste bellissime pirata pirata con la pistola nuova hai su avevi scambiate le pistole tutto dove arriva niente senza parole attenzione andiamo a tirare una bratella sparate un colpo sparate un colpo e gli spari sopra vasco rossi ciao come ti chiami sarà ok pensavo pensavo che si era spostato l'organo con tutti sti colpi qui porca ma t'hanno perso anche di striscio incredibile è passato l'apo è passato te invece come ti chiami gaia 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 da dove arrivi concesio provincia di grescia sai perché io l'ho chiesto perché si sente che di concesio capito attenzione angel black black ah sta parcheggiando c'era la controfigura qui sotto che sta lavorando nel backstage pensavo che era in piega l'angelo e quindi invece c'è una ragazza qui che sta magheggiando culatello ragazzi attenzione andiamo a intervistare Adele ciao Adele che bello che bello che bello ti sto inseguendo da un po' si vede sono sempre dietro io sono angioletti bianco tu sei angioletti nero da dove arrivi? lubezzane ma perché ma perché perché hai cercato scusa ma ma lei chi è? una concentrazione qua sotto lei è peppa peppa Asia ah peppa pig la maialina la maialina lei è la maialina mi chiamo Asia 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 benvenuta Asia dopo ti fai vedere dalla telecamera fai un saluto alla telecamera eccola l'Asia applauso Asia è ritornata tra noi la ragazza del backstage la ragazza del backstage allora non dobbiamo sapere se avete posto un mappamonte no che no lascia la stare no no le scarpe le scarpe stavo facendo sul nodino il fiocchetto il fiocchetto si vuoi salutare qualcuno? mostrosamente qualcuno? no nessuno? no da paura? da panico? no ma cosa ho visto? ragazzi attenzione è la mia sappa ci abbiamo la ricarica è la mia sappa in caso in caso di di rimanere a secco quanto fai a chilometro? 0 a chilometro quanto fai a chilometro? quanto fai a 20 litro? 10 litro? non lo so non lo sa non lo sa niente la ragazza è Brugel va bene va bene ok allora noi ci rivedremo Sara ci sei Sara salutiamo tutti camera 3 2 1 da paura da paura più paura più paura 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 non lo va a capire ci sei via ci sei ci sei ci sei che ci sei ci sei